Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale, mi chiamo Gianluca Ragnari Bandini, sono un trader e un investitore. Oggi vi presento una bella carrellata di 10 azioni tech da dividendo. Quindi sono delle società molto qualitative, solo due o tre stanno attraversando un po' di problemi, ma il fattore più importante è che queste abbiano da tantissimi anni, e quindi attualmente le cose siano così e anche per le prospettive future, i dividendi costantemente in aumento e super sostenibili. Lo so è un'unione un po' strana, il connubio azioni tech, quindi spesso e volentieri growth associate ai dividendi, ma proprio per questo secondo me si fa tutto molto interessante. In questo momento partiremo dalle società che rilasciano in termini percentuali i dividendi meno elevati, e concluderemo invece con le aziende che rilasciano i dividendi più importanti in termini percentuali. Quindi andiamo subito a vedere la prima società che non ha bisogno di presentazioni. Si chiama Apple, ragazzi. Perché comunque è strano vedere aziende tech o growth che rilasciano dividendi? Perché la stessa loro natura impone al management, quindi comunque a coloro che amministrano l'azienda e devono fare delle scelte, ovviamente come utilizzare gli utili, di andarli ovviamente a prendere e a reinvestire in ricerca e sviluppo per non rimanere mai indietro. Perché la tecnologia va sempre avanti, poi si rischia di morire, di perire e fare una bruttissima fine. E' una società che è cresciuta tantissimo, qui andiamo a vedere in termini di valutazione, ora qui ce lo fa vedere ovviamente le quotazioni aggiornate dopo lo split, quindi in realtà ancora non era effettuato, non c'era stato lo split, insomma un anno fa. Comunque a marzo, dopo la discesa dovuta da tutto quanto il disastro pandemico, questa azienda andava a quotare 56 dollari. Oggi ne quota circa 130, quindi è un rialzo superiore al 150%, veramente incredibile. E se un'azienda è cresciuta così tanto, vediamo anche sicuramente la quotazione negli ultimi 5 anni, qui ragazzi, 25 dollari, ora 130. Quindi non possiamo aspettarci un dividendo alto, non solamente per il fatto che sono aziende che preferiscono utilizzare gli utili in ricerca e sviluppo, ma anche perché le quotazioni sono salite così tanto che per forza di cose i dividendi non possono essere enormi. Ma andiamoci a vedere a quanto ammontano, allo 0.63% annuo. Guardate come sono sempre aumentati ragazzi, nel 2012 erano 0.37 centesimi, quindi 0.37 dollari per azione, mentre ad oggi sono 0.8, quindi sono più o meno triplicati, eppure se il dividendo rappresentava un 1.8% nel 2012, ad oggi rappresentano 0.6, sono triplicati. Questo significa che le quotazioni sono più che triplicate. Andiamoci a vedere poi questa voce, così poi non la spieghiamo più perché ancora non la conoscesse il payout, ci va a indicare quant'è la percentuale di utile di questa azienda, che la stessa va a riconoscere agli azionisti sotto forma di dividendo. Quindi se nell'anno fa 100 di utili, 24 li lascia sotto forma di dividendo. Tutti quanti gli altri li va a reinvestire nel suo business, oppure lo vada a accantonare in liquidità. È una delle società che ha più liquidità al mondo, veramente hanno i soldi per fare una guerra. Spostiamoci ancora avanti e troviamo ASML. È un'azienda olandese, una delle mie preferite, lavora nel campo dei simiconduttori, è specializzata nella litografia e quindi la va ad applicare ai chips e quindi anche alle memorie. Ed è una delle aziende leader perché ha una super tecnologia che le consente proprio un dominio in questo settore. È una società che mi piace tanto, l'ho detto, ne ho parlato tanto nel mio canale, ci ho investito, ci sto abbastanza in fissa, l'unica problema è che avrei dovuto investire ancora di più. Il dividendo qui è un 0.63, guardate quanto è cresciuto in questi anni, dieci anni fa 0.2 dollari per azione, ad oggi ragazzi da un 2.55, significa che ha fatto un più 1000% la crescita del dividendo, ma vi sorprenderà ancora di più la crescita delle quotazioni. Guardate ragazzi, nel 2009-2008 finita qui praticamente la grande crisi azionaria in cui andava a quotare questa azienda 15 dollari, ad oggi ne quota 400, pensate chi ha fatto gli investimenti in quegli anni, veramente sta sorridendo tantissimo, il payout qui è un 32%, veramente fantastico. Ora cominciamo a salire con la percentuale del dividendo e ci rivolgiamo a Microsoft, anche essa è una società che è cresciuta tantissimo nelle quotazioni, guardate qua il dividendo è l'1%, 1.03, quindi un po' più alto, sempre le stesse identiche dinamiche di payout, di crescita del dividendo, guardate qua ragazzi, ad oggi da un 2.2 per azione e dieci anni fa dava uno 0.5, quindi praticamente il dividendo in dieci anni è quadruplicato. Ora facciamo questo calcolo, arrotondiamolo al 2% per facilitarci, perché tanto comunque le aziende oscillano all'interno del mercato, ma magari ha comprato un po' meglio questo investitore. Ad oggi percepirebbe e percepisce, colui che ha fatto l'investimento dieci anni fa, un 8% di ritorno sul suo acquisto, perché il suo prezzo meno di acquisto è sempre quello, se l'è tenuta, e se è vero che prima 50 centesimi di dollari corrispondevano al 2%, ad oggi per lui i due dollari corrispondono a un 8%. Vedete perché sono fantastiche queste aziende, che possiamo inquadrarle nelle quality dividend growth, quindi estremamente qualitative per quanto riguarda i loro bilanci, il loro business, le loro aspettative di crescita, la sostenibilità e la crescita stessa dei dividendi. Potreste prendere delle aziende che danno dei dividendi bassi oggi, ma fra dieci anni, tramite la loro continua crescita, saranno dei dividendi enormi e comunque super sostenibili. Pensate, se uno vi dicesse, io prendo l'8% all'anno da Microsoft di dividendo, e voi direste, no, dall'1%, sì, ma io l'ho comprata dieci anni fa, e questa è la cosa grandiosa. Ovviamente, ragazzi, non vi sto dicendo, non vi sto invitando a investire in queste aziende, a una delle quotazioni diverse, possiamo definirle anche sottovalutate in tempi passati, poi comunque in un decennio è cambiato tutto a livello tecnologico, sono cambiati l'equilibrio all'interno del mercato, in quest'ambito si tratta di epoche geologiche, ok? Dieci anni fa e tantissimo tempo fa per quanto riguarda Apple, ASML, e così via. Non sono un consulente finanziario, tutto ciò che vedete quindi non rappresenta un consiglio finanziario, è soltanto a scopo meramente didattico e informativo. Procediamo, andiamo avanti e spostiamoci in Germania con SAP, quindi un'azienda che vale oltre 100 miliardi di euro, specializzate nello sviluppo di software, adesso insomma si sta lanciando anche ovviamente nel cloud e così via. E diciamo che i dividendi qui sono un po' più importanti, sempre in assoluto bassini, ma ricordiamoci che stiamo parlando di una tech che dà un 1.50% solita dinamica di crescita degli stessi e di sostenibilità. Procediamo ancora in avanti e troviamo Oracle ragazzi, quindi fornisce una merita di soluzioni nell'ambiente Information Technology alle aziende e qui il dividendo è 1.52% sempre in stracrescita e super super sostenibile. Poi abbiamo Tokyo Electron quindi ci spostiamo in Oriente, nell'Oriente super occidentalizzato perché parliamo del Giappone, è un'azienda che sviluppa, vende semiconduttori e anche dei pannelli quindi display piatti di varie strumentazioni le vende in Giappone, Nord America, Europa, Corea del Sud, Cina, Taiwan, insomma è super super internazionalizzata. I dividendi qua sono un po' di più stiamo crescendo quindi un 1.76% il solito discorso della sostenibilità. Andando ancora avanti incontriamo Texas Instruments questa è un'azienda che ha dei dividendi del 2.50% quindi vedete adesso stiamo al quarto posto nella nostra classifica cominciano a diventare dei dividendi importanti per trovarci nell'ambito tecnologico guardate anche qui ragazzi che crescita incredibile e non è forse poi un caso che dividendi più alti cioè che ha dividendi più alti alla fine corrispondano anche dei payout più elevati comunque è sempre sostenibile questo 67% voi pensate anche che un'azienda che ha intrapreso ormai da anni e che comunque ha una determinata capitalizzazione perché non parliamo di un'azienda uguala quindi capitalizza 150 miliardi di dollari ma questo vale un po' in generale questo discorso per tutte le aziende che ormai hanno una storia alle spalle che sono molto grandi in termini di capitalizzazione e hanno dei business stabili vogliono assolutamente mantenere l'aumento del dividendo perché ormai gli investitori sono affezionati a queste dinamiche diventano estremamente sensibili e si spaventano si straniscono laddove il dividendo ogni anno non viene aumentato perché viene percepito come qualcosa che non va assolutamente bene perché d'altronde la società lo faceva da 10 anni perché ora si è messo e quindi viene sempre interpretata male anche se ci possono essere le migliori giustificazioni ovviamente il 90% delle volte il mercato reagisce malissimo se andiamo ancora avanti troviamo Intel una storia un po' penosa però poverina la Intel nell'ultimo anno d'altronde tutti quanti i ritardi per gli sviluppi dei suoi microprocessori di nuova generazione inoltre tutto il fatto che la Apple ormai si riproduce in casa è chiaro che gli investitori sono un po' scappati e qui nell'ultimo anno è una delle pochissime aziende in quest'ambito di quelle importanti soprattutto quelle che vi sto facendo vedere qui che veramente si trovano molto lontane dai loro livelli di un anno fa e non hanno visto crescita no sta andando maluccio diciamo una cosa positiva sicuramente per quanto riguarda le quotazioni è che vi è un mega supporto in zona 44 cioè non c'è quasi nessun evento per ora che riesca a farla andare sotto 44 poi non vuol dire che non possa accadere per ora è stato così quindi è una zona supportiva importantissima dall'altra parte ad oggi fatica ancora tanto a rimanere sopra quota 50 e quindi anche questo bisogna andarlo a sottolineare secondo tanti analisti è sottovalutata ma in maniera pazzesca il dividendo qui del 2.61% solide dinamiche di sostenibilità della possibilità anche di aumentarlo qui il P8 è veramente basso ragazzi un 25% sicuramente insomma se l'azienda si riprende io penso che fra molti anni i dividendi saranno strastra aumentati al secondo posto di questa nostra classifica speciale troviamo la Cisco e quindi loro diciamo sono un'azienda che è specializzata nei protocolli internet tutti i prodotti relativi al settore della comunicazione della tecnologia quindi dell'information technology è super internazionalizzata famosissima vediamo un po' i dividendi anzi qui anche la valutazione secondo gli analisti dovrebbe quotare molto di più questa azienda la crescita futura già che ci siamo andiamocela a vedere nulla di così clatante e importante ragazzi e il dividendo è un 3.27% anche qui sostenibile e sempre in crescita 3.27% per questo settore è tanto cioè è di veramente tutto rispetto per trovarci in quest'ambito e poi al primo posto andiamo a terminare con la nostra famosissima IBM ed ha un dividendo del 5% quindi è veramente elevato è molto importante il payout è elevato 73% per trovarci nell'ambito tecnologico dovrebbe scendere in futuro un 55% perché comunque non è che siano stati questi degli anni in cui ha visto esplodere i suoi utili il suo fatturato vediamo insomma che più o meno è costante ma adesso c'è stata anche una diminuzione degli earnings degli utili rispetto a un anno fa non è stata un'annata che ha visto favorire questa società dovrebbe ritornare nei prossimi anni ai livelli diciamo pre-crisi quindi comunque è previsto una crescita annualizzata per i prossimi tre anni dell'8.5% vediamo se sarà così ragazzi se le previsioni degli analisti verranno rispettate comunque insomma non c'è pericolo per quel dividendo e soprattutto perché l'azienda anche se è andata un po' in difficoltà non lo va a tagliare per il discorso che vi dicevo prima a parte non si trova in estrema difficoltà oddio moriremo tutti però sono quelle aziende che fanno di tutto per mantenere il costante aumento dei dividendi per i discorsi che vi facevo prima non è un'azienda che se l'è vista che se l'è passata bene in questi anni questo viene anche no si va a riflettere sulle quotazioni guardate ragazzi chi l'ha presa 5 anni fa ci sta guadagnando pochissimo cioè in realtà l'ha comprata a 131 dollari una quota a 125 dollari 123 dollari però ogni anno si è portata a casa quel 4-5% quindi fa quel 20-25% in questi 5 anni se andiamo a sommare il tutto qualcosina si è portata a casa si trova in positivo però già è diverso il discorso ad esempio per chi l'ha presa a 178-180 dollari nel 2017 qui ha voglia a prendere ovviamente dei dividendi per ritornare in pareggio non è sicuramente una società che è andata molto bene e che ha premiato gli investitori ma da oggi comunque da un bel 5% e ovviamente l'ho inserita perché appartiene alla categoria di quelle società tech che danno dei dividendi costantemente in aumento a tanti anni vogliono continuare ad applicare questa politica a meno che adesso arrivano delle news che la vadano a sconfessare ragazzi fatemi sapere voi anche nei commenti cosa pensate di questa classifica ovviamente mi sono andato a concentrare su aziende ad altissima capitalizzazione quindi sono dei veri e propri giganti non c'è niente di piccolino e fatemi sapere se qualcuna di queste vi piace più delle altre cosa ne pensate di questo connubio anche delle ovviamente dividendo tech che è un po' strano e anche di quel concetto che ad oggi uno magari prende un'azienda che ti paga l'1% il 2% fra 20 anni te ne dà il 15% rispetto al tuo prezzo medio e vai alla stragrandissima insomma non è un concetto da sottovalutare e infatti è per quello che poi quando investo in quelle aziende che hanno quelle prospettive non mi interessa la doppia tassazione americana che porta il dividendo da un 26% a un 37% totale no non mi spaventa proprio perché è molto più facile poi in quel mercato andare a trovare questa tipologia di aziende piuttosto che magari in Europa e soprattutto in Italia ragazzi viacolo di ottimi investimenti per premiare il mio lavoro qui sul tubo vi chiedo un'iscrizione al canale è veramente importantissima per sostenermi io ringrazio tanti di voi che mi dicono meritereste più iscritti spero che voi continuate a pensarlo anche dopo questo video e allora ragazzi iscrivetevi se ancora non lo avete fatto mettete un bel pollicione in su per aiutare l'algoritmo e il canale e soprattutto aiutare me a portarvi sempre più contenuti con la miglior qualità possibile io ce la metto tutta e so che si può sempre fare di meglio e quindi quello è il mio obiettivo vi auguro degli ottimi investimenti vi do appuntamento a prestissimo ciao ciao